Ciao, mi chiamo Gastone, ho 34 anni, vengo da Bologna e collaboro con l'Associazione dei Notori Midollo Osseo. Ho pensato di iscrivermi al Master un anno fa perché pensavo che questo percorso potesse specializzarmi in un lavoro in continua crescita, in grado di coniugare creatività e razionalità a servizio di una bella causa. Perché penso anche che nel fundraising ci sia molto di più che non il solo fundraising. Ascoltare qualche mese fa il festival del fundraising Alberto Cairo è stato meraviglioso, è stato capace di farci pensare, di farci ridere ed emozionare fino alle lacrime. Poi ci sono amicizie che nascono, emozioni che crescono, c'è la competenza che ti crei grazie alla splendida professionalità e disponibilità dei docenti, ci sono persone nuove che conosci, fantastiche, che amano ciò che fanno e ti trasmettono questa loro passione. L'elenco delle cose belle che ti dà il Master potrebbe essere molto più lungo, alcune più grandi e altre più piccole, però citando una canzone dello Zecchino d'Oro sono le piccole cose belle che fanno la bella nostra vita.